dentro anche noi vi lascio vi lasciamo continuare con questa bella selezione dalla sasso feste domenica 21 luglio 2019 grazie facciamo un bel applauso a giogalli grazie per questo intervento iniziale abbiamo un bel applauso lo voglio forte forte grazie amici grazie voglio sentire un applauso di mister italia miss grand prix music guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te in montagna al mare in una laguna se ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate le nostre litigate ce le paghiamo allora chiediamo un grande applauso a tutte queste ragazze complimenti e allora adesso il compito importante della giuria che con i propri voti da 6 a 10 dovrà decidere a chi verranno assegnate le fasce nel finale e allora cominciamo con giudicata 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 all'inizio giudicata 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 Le paure sono delle brutte o bestie, insieme a giocare, insieme a giocare. Le paure sono delle brutte o bestie, insieme a giocare, insieme a giocare, insieme a giocare, insieme a giocare. Insieme a lottare, insieme a rinventare, insieme a dare senso ad ogni sacro, santo giorno, insieme a rido, piango e canto amore. Ridi, piangi, canti, rido, piango e canto ancora. Grazie ad Alessia, la concorrente numero due da Modena, 14 anni, votate Emma Corica. Grazie ad Alessia, la concorrente numero due da Modena. Grazie a Alessia, la concorrente numero due da Modena, 15 anni, votate ora Lucia Golinelli. Grazie a Alessia. Grazie a Alessia, la concorrente numero due da Modena, 15 anni, voto per Angel Rigi. Grazie a Alessia, la concorrente numero due da Modena, 15 anni, votate Alessia Biagini. Grazie a Alessia, la concorrente numero due da Modena, 15 anni, votate a 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 Modena. Secondo voto per Anna Revecchi. Grazie Anna, concorrente numero 7 da Carpi, 16 anni, votate Chiara Caglioni. Grazie a tutti. Sabrina Formicola. Grazie a tutti. Grazie Sabrina, concorrente numero 9 da Carpi, 15 anni, ora davanti alla giuria, Ilenia Di Chiara. Grazie a tutti. 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 Perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle, noi siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto il niente che non deve venire, nell'istoria che conosci siamo gli eccofine. Grazie Diana, concorrente numero 14 da Modena, 19 anni, eccola qui, Silvia Adiapong, numero 14, Silvia Adiapong. Grazie Silvia, la concorrente numero 15 da Reggio Emilia, 16 anni, votate Iris Drago. Grazie Iris, la concorrente numero 16 da Reggio Emilia, 16 anni, Milena Di Lio. Grazie Milena e concludiamo con la numero 17 da Vado, 24 anni, Daniela Dobrin. Grazie Silvia, la concorrente numero 16 da Reggio Emilia, 16 anni, votate Iris Drago. Applauso di tutto il pubblico presente qui alla Sassofest, serata conclusiva a queste belle concorrenti e rappresentanti della base musicale e le facciamo schierare per il momento finale. Bello, bello, bello così. E allora la sorpresa la vogliamo svelare, probabilmente avete capito che non c'è una concorrente tra le schierate. Sveliamo subito l'arcano, lei è la nostra madrina della serata in quanto ha vinto la tappa precedente a questa, la tappa a Reggio Emilia. Quindi questa sera il compito di Milena, Milena Di Dio di Reggio Emilia, è quello di farci la madrina e di cedere la corona alla più votata di questa sera. Quindi Milena devi prendere le fasce per intanto tu, prendi le fasce e tu Joe prenderai tutti i concorrenti, non facciamo salire tutti i giurati, sennò diventa una cosa interminabile. Allora cominciamo con la prima fascia, quindi prego Milena e prego Joe, la prima fascia che assegniamo è un ex equo in realtà, hanno ottenuto gli stessi punti, poi se abbiamo due fasce va bene. Sono 135 punti, ex equo, fanno un passo avanti da concorrente numero 11, Leontina Budai, da numero 7, Chiara Cagliumi. Sì, eccole qua, facciamo un bel applauso. Faremo bene anche a Chiara la fascia, no questa ne abbiamo un in più? No, niente, gliela faremo vedere Joe, non era previsto Chiara, ti faremo vedere la fascia. Complimenti, facciamo un bel applauso per Chiara Cagliumi, ecco le mettiamo insieme giustamente. Le foto, lo dico ai fotografi, le facciamo alla fine sul palco con tutte le vincitrici. Ok, facciamo un passo più su, quindi la prossima fascia, prego dai pure a Giù la fascia, è vinta dalla concorrente numero 4, Angel Righi. Righi, facciamo un bel applauso. Complimenti Angel. Ancora più su, la prossima fascia, la Miss Grand Prix Calcio per la concorrente numero 3, Lucia Golinelli. Complimenti Lucia. E allora lo ricordo a tutte le ragazze che vinceranno la fascia di rimanere qui perché faremo le foto alla fine. Miss Grand Prix Motto, ancora un passo più in avanti, ed è la concorrente numero 1, Alessia Belloni, da Reggio Emilia. Complimenti anche ad Alessia, e ora mancano le prime 4, Miss Grand Prix Calcio. Dopodiché saremo sul podio, ed è la numero 9, Ilenia Di Chiara. Complimenti Ilenia. Giovanissima anche in legna, e ora giù siamo alle prime 3, quindi Miss Grand Prix Auto, terza classificata. è la concorrente numero 5, Alessia Biagini. Complimenti ad Alessia. Seconda classificata, Miss Grand Prix Fitness, è la concorrente numero 8, Sabrina Formicola. Complimenti anche a Sabrina, ed ora non rimane che premiare, anche con la corona, Miss Grand Prix Talento. La più votata di questa sera è ottenuto 161 voti, ed è la concorrente numero 17, Daniela Dobrien. Daniela Dobrin, da Vado, conquista il titolo più importante di questa serata, Daniela fai un passo avanti, vieni avanti. E la giuria maschile di questa sera ha premiato lei come la più votata. e io chiedo al pubblico anche l'applauso per tutte le altre ragazze che non hanno conquistato questa sera la fascia. Venite avanti tutte ragazze, raccogliete l'applauso meritato, perché come diciamo sempre, lo spettacolo lo fate voi. Quindi complimenti a tutte queste bellissime ragazze, che purtroppo io devo congelare velocemente, perché abbiamo la premiazione dei Miss e rinnovo l'invito alle ragazze che hanno la fascia, di rimanere con noi. E non rimane ora che votare, scusate, premiare i ragazzi. Quindi 21 concorrenti, 10 di loro verranno premiati, quindi lasciamo tempo.